Gubbio, se aveva già giocato con il Porto San Giorgio, bisogna un attimo capire un po' le dinamiche. Liberti con il destro in mezzo, è bravissimo. E' attenta, il 4-1 Liberti, lo serve a lui! E' attenta, il 4-1 Liberti, lo serve a lui! E' attenta, il 4-1 Liberti, lo serve a lui!